E' un vino ricco di personalità, quantità scassissima, si, però il vino conluce il suo film, un vino a mio modo di vedere che racconta dopo la natura del termeno, il nostro termeno in particolare è il frutto di produzioni del mercato di Locano Fina, che è un frutto di produzione del mercato di Locano Fina,